Acilucca ha annunciato con un comunicato giovedì mattina l'annullamento del 39esimo rally del carnevale in programma sabato 18 e domenica 19 febbraio in Versilia, cancellazione dovuta ad un numero di adesioni 37 insufficiente per il raggiungimento di un'adeguata copertura delle spese di organizzazione. Piuttosto articolato, ma anche mesto, il commento del direttore di Acilucca, Luca San Giorgio, con molta amarezza, dice, siamo costretti a sventolare bandiera bianca e ad annullare il rally del carnevale. Purtroppo il numero degli iscritti raggiunti non è sufficiente a garantire quel necessario equilibrio tra costi e ricavi, che deve ispirare ogni gestione virtuosa, non solo dei rally. Saremo impegnati, ha aggiunto San Giorgio, nei prossimi giorni come Automobile Club Luca, ad analizzare le cause di questo epilogo non felice e non ci sottrarremo a fare autocritica. Certamente la difficile congiuntura economica e la criticità reperire sul mercato i nuovi serbatoi, che rappresentano da gennaio 2023 la dotazione obbligatoria per le vetture da competizione, non bastano da soli a spiegare il flop sportivo che si è verificato. Finisce così l'avventura del 39esimo rally del carnevale, ma con la ferrea volontà da parte di tutti e dell'ente di lavorare come direttore per dare voce alla passione dei nostri conduttori attraverso l'organizzazione diretta di manifestazioni sportive motoristiche sul territorio provinciale di competenza, evidentemente secondo modalità diverse, che cercheremo e troveremo. Questo San Giorgio, noi ci permettiamo di aggiungere che chiaramente degli errori sono stati commessi e che adesso andranno analizzati e Cartina Torna Sole per il movimento in assoluto saranno sicuramente anche le prossime gare.